Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video sempre qui su Tutto Tech. Oggi sono qui con voi per parlarvi un pochino, fare un commento a caldo ma non troppo sulla WWDC di ieri che ha visto Apple presentare tantissime novità software e qualcuna hardware abbastanza inaspettata. Ci sono veramente tante cose da discutere, di cui parlare, quindi iniziamo subito. Partiamo subito con i sistemi operativi principali, a partire da iOS 13 che aggiunge delle funzionalità, penso alla Dark Mode, sicuramente quella più attesa che permetterà sicuramente un risparmio energetico sui dispositivi con schermo AMOLED, penso allo swipe sulla tastiera, una cosa che però c'era già da diverso tempo sui dispositivi Android, penso all'editing fotografico ma anche editing video direttamente integrato nella galleria. Non c'è stato però secondo me quello step successivo, mi aspettavo qualcosa di più all'interno della fotocamera, magari una Night Mode, una modalità notturna avanzata in grado di tenere testa agli ultimi Huawei e ai Pixel, invece non c'è stato secondo me questo Sprint. Al contrario, dove c'è stato lo Sprint è nella versione per iPad che adesso non monterà più iOS ma un suo sistema operativo che si chiamerà iPadOS, che sostanzialmente sfrutta meglio gli spazi, penso infatti alle icone un po' più piccole, la possibilità di vedere i widget direttamente nella schermata Home, nel multitasking un pochino più avanzato. Ora c'è anche un pochino nascosto, non ne hanno parlato granché, ma il supporto ai mouse esterni ed ora anche le chiavette esterne e le schede SD sono lette senza problemi. Quindi un ulteriore passo da parte degli iPad verso una produttività avanzata e la concorrenza con i PC portatili si fa molto molto più agguerrita. Parlando sempre di iPad, ci sono due funzioni software che mi hanno molto colpito. La prima, se non mi sbaglio, si chiama Project Catalyst, che permetterà agli sviluppatori di creare delle applicazioni per iPad e portarle nativamente senza troppe difficoltà anche su Mac, su macOS, quindi la possibilità di creare delle applicazioni multipiattaforma e soprattutto un'altra cosa molto interessante è Sidecar, un nome molto carino per indicare la possibilità di collegare l'iPad al nostro Mac ed utilizzarlo come monitor esterno, ma non si ferma qui questa funzionalità perché già c'erano delle app che permettevano ciò, ma oggi si può sfruttare anche magari la Apple Pencil di iPad Pro per creare qualche cosa o magari firmare dei documenti sul proprio Mac, quindi una maggiore sincronizzazione, una maggiore possibilità di dialogo tra i dispositivi Apple e produttività, secondo me, che si eleva ulteriormente sia su iPad sia su Mac, quindi converrà sempre di più rimanere all'interno dell'ecosistema Apple. Ci sono poi delle novità software anche per WatchOS che diventa sempre più ricco e completo con l'aggiunta di registratore vocale, calcolatrice, note, riproduzione musicale direttamente dallo smartwatch e app store indipendente, quindi non saremo più legati alle app installate sul nostro iPhone, ma potremo direttamente entrare nell'app store sul nostro smartwatch e scaricare singole applicazioni pensate proprio per il nostro smartwatch. Anche in questo caso non ci sono delle novità clamorose, però un ulteriore passo per lo smartwatch Apple che ad oggi è comunque leader del mercato dei wearable. Un'altra novità interessante di Apple è l'introduzione di Sign in with Apple, ossia evitare di dover entrare con altri account, penso magari all'account Google, all'account Facebook o con la nostra mail principale in determinati servizi. E tramite questa possibilità Apple si occuperà totalmente della nostra privacy creando delle mail farlocchio, comunque che fanno da schermo rispetto a quelle nostre principali, in modo da non fornire tutti i nostri dati nel momento in cui facciamo il login, ma avere un maggiore controllo e una gestione più completa della nostra privacy e dei dati che inviamo alle applicazioni e quindi agli sviluppatori. Ultima cosa da menzionare lato software è l'addio da parte di Apple e di macOS ad iTunes in quanto ora tutte le funzionalità di iTunes sono state divise in app più focalizzate sui singoli servizi, infatti oggi avremo Apple Music, Apple Podcast ed Apple TV come applicazioni native all'interno di macOS e la gestione dell'iPhone invece sarà lasciata al Finder. Ma non finisce qui perché Apple durante questa WWDC, che è solitamente incentrata solo sul software, ha lanciato anche un nuovo hardware, ossia Mac Pro e il nuovo XDR Pro Display, adesso non ricordo il nome. Sicuramente più interessante il Mac Pro, ma sono entrambi, già ve lo dico, due prodotti di nicchia, soprattutto per il prezzo. Mac Pro che ha tantissima potenza da vendere, secondo me è un pochino sovrapprezzato perché si parte da 6.000 dollari che secondo me in Italia diventeranno almeno 8.000 euro con dazzi, tasse e tutto il resto. Sicuramente c'è stato un grande livello di ingegnerizzazione, una grande attenzione e un gioiellino veramente da parte di Apple questo Mac Pro, però 8.000 euro di computer sono difficili da giustificare anche per un professionista, penso che lo utilizzeranno solo delle produzioni davvero importanti che riescono ad ammortizzare un costo del genere, oltretutto 8.000 euro nella versione base con 32 GB di RAM, 256 GB di SSD, un pochino pochi per 8.000 euro, Intel Xeon, adesso non ricordo il modello preciso e la possibilità comunque di espandere questo computer perché è totalmente modulare e soprattutto c'è stato un nuovo design da parte di Apple che ritorna un pochino al passato con il case vecchio stile, quindi standard, non più quella specie di cestino che abbiamo visto sei anni fa, però soprattutto con questo nuovo design bucherellato che mi dà un pochino fastidio essendo io tripofobico, ho questa fobia dei design bucherellati e quindi mi dà un pochino fastidio, ma questo design viene ripreso anche sul nuovo monitor, sul retro del nuovo Pro Display XDR di Apple che costa 4.999 euro nella sua versione base più 999 euro di stand, a meno che non vogliate applicarlo alla parete. Qui secondo me c'è stato un errore da parte di Apple perché non puoi vendere lo stand e il monitor separati, al massimo potevi dire il monitor costa 6.000 euro, 6.000 dollari, scusate, però se lo volete senza stand costa 1.000 euro in meno, 1.000 dollari in meno. Qui c'è stato secondo me un errore a livello di comunicazione da parte di Apple che poteva essere evitato facendo il discorso inverso. Il design bucherellato servirà soprattutto per la gestione delle temperature che è stato uno dei maggiori problemi di Apple lato Mac dell'ultimo periodo, quindi almeno speriamo che questo nuovo design che a me personalmente non fa impazzire possa essere almeno funzionale e utile per contenere le temperature. Arriviamo però alle conclusioni su questa WWDC, devo dire che in generale non mi posso lamentare di questo evento, c'è stato veramente tanto da vedere, tanto da scoprire, tante novità sia lato software sia lato hardware. Certo ci sono delle cose molto più interessanti, penso al Project Catalyst per la questione delle app universali, penso alla funzione Sidecar per collegare iPad al nostro Mac e penso anche ad iPadOS che potrebbe essere veramente una svolta nella produttività tramite iPad che lo avvicina ulteriormente ai portatili, a fare concorrenza ai portatili, mentre secondo me iOS 13 e WatchOS sono semplicemente degli affinamenti, un arricchimento dei software che comunque non hanno grossi problemi ma volevano semplicemente delle aggiunte, delle svecchiate ecco, mentre lato hardware sicuramente delle sorprese che nessuno si aspettava ma molto 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 di nicchia visto i prezzi molto 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 elevati anche in questo caso, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate su questo evento, su questa WWDC di Apple, se vi è piaciuta, se vi aspettavate altro, se è andata oltre le vostre aspettative o ancora non siete contenti di quello che ha presentato Apple, mi raccomando se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video nel momento in cui questi escono, io sono Tony Cassano ci vediamo in un prossimo video sempre qui su tuttotech.net